Bene amici e ben svegliata a poste italiane, scandalosi ma ok, ho due notizie scioccanti su pensioni e reddito di cittadinanza. Vi do prima la buona notizia e poi la buon cattiva. Io sono Mr. Lul, un bel like e l'avrete intuito anche dal titolo, sono appena partiti con indecoroso ritardo i primi flussi per i pagamenti delle ricariche del reddito di cittadinanza di settembre 2023. E sì, oggi non è il 27. Come mai? Perché poste italiane con le ricariche ordinarie fa quello che vuole da circa 3-4 mesi. E sapete cosa mi fa imbestialire? Ora la platea dei beneficiari di RDC si è anche ridotta. La quasi totalità o comunque la maggioranza sono nuclei fragili, fragili, e i pagamenti sono peggiorati. Non c'è un orario, non c'è mai una sicurezza, non c'è mai il rispetto del giorno e non c'è un mese che vada dritto. In sintesi non c'è proprio alcun rispetto per i percettori, zero. Comunque oggi dovrebbero arrivare anche le integrazioni di assegno unico sul reddito di cittadinanza, lavorazioni e poi pagamenti, diciamoci, entro il 29. Adesso pensioni. Per quelle di ottobre attendiamo, sapete, i pagamenti sia banche che poste il 2 di ottobre, ma state attenti perché potrei sorprendervi a breve. Ma invece eccoci con le cattive notizie. Il governo ha varato la Nadef. A giorni avremo il testo completo, così potremo anche verificare nero su bianco quello che sarà l'aumento perequativo che scatterà da gennaio 2024. Ma già dalle dichiarazioni post Consiglio dei Ministri butta malissimo per tutti. Giorgetti dice La legge di bilancio quest'anno avrà pochissimi margini di spesa. Sarà una manovra seria, rigorosa e di buonsenso. Basta con gli sprechi del passato. Si tratta di una manovra tutta in deficit perché il PIL è crollato e per questo mi aspetto una rivalutazione presunta tendente al ribasso e credo che vedremo anche dei ritocchi sui tagli delle rivalutazioni per le pensioni quelle oltre 4-5 volte il trattamento minimo. Cosa dite? Aumenti veri per invalidi e fragili? Il Ministro ha detto che la maggior parte, la quasi totalità del debito andrà a finanziare il taglio del cuneo fiscale e i bonus, gli incentivi alla natalità. Quindi di margini paiono essercene davvero pochi. Attendiamo, speriamo, vedremo poi appunto con la manovra. La buona notizia è che però viene confermata per l'anno prossimo la riforma dell'IRPEF con vantaggi presunti, dicono, per i renditi medio-bassi. Quindi insomma anche per i pensionati con renditi medio-bassi. Vedremo, detto questo, parola d'ordine, vedremo. Un abbraccio, alla prossima, da Mr. Lulla.